Buongiorno, ben ritrovati in questa nuova stagione dell'approfondimento del venerdì. Apriamo questa prima puntata trattando degli Stati Uniti in Afghanistan, ovvero proveremo a capire, ma il ritiro americano da Kabul è segno del declino? Siamo davanti alla fine della supremazia statunitense sul globo? Oppure ci segnala qualcos'altro e, ancora più importante, come possiamo fare a capirlo? Quali sono gli strumenti che ci possono essere utili per distinguere elementi di questo tipo? Partiamo dicendo anzitutto che non c'è niente di più difficile nell'analisi che cogliere le priorità, cioè stabilire cosa conta e cosa non conta, se siamo davanti ad un evento realmente importante oppure minore. E rendersene conto nel momento stesso in cui questo evento avviene è quasi disumano, perché la suggestione, la nebbia, la nostra semplice finitezza in quanto esseri mortali ci complica terribilmente il compito. Se aggiungiamo anche delle tare ideologiche che comunque pertengono quasi a tutti, l'impresa diventa ai limiti del possibile. Basti vedere come infatti queste ore si siano sprecati dei profondi se riguardanti la supremazia americana. Un paese che scappa in questa maniera dall'Afghanistan è finito, figurarsi la supremazia globale, già l'abbiamo consegnata ai cinesi, che se la passano veramente molto male, ma lasciamo da parte questo, ci arriveremo tra poco, eccetera. Fatto sta che a questo sono stati aggiunti incredibili paragoni con il Vietnam, incredibili, ma a fine di un certo punto anche di questo tratteremo tra poco e così via. Ma che cosa è successo veramente? Che cosa significa la dipartita statunitense dall'Afghanistan? Di questo mi occupo peraltro nel nuovo numero di Limes, che si intitola la propria elezione afghane che è in uscita oggi, nelle principali città italiane e domani invece sabato in tutto il paese. In quel numero ci sono due articoli, uno in cui mi occupo delle elezioni per l'Italia da trarre dall'Afghanistan, di cui ho discusso anche in un mappamundi di qualche giorno fa con Lucio Caracciolo e Alfonso Desiderio e in un altro articolo mi occupo proprio degli Stati Uniti, di ciò che significa per la supremazia globale il ritiro dall'Afghanistan. Non un discorso accademico, quindi non un discorso inutile, perché la geopolitica deve sempre avere questo compito, quello di riportare gli eventi di cui tratta la comunità a cui si rivolge. Il dramma degli esteri è che gli esteri non servono a niente, giustamente non servono a niente, perché spesso gli esteri hanno un atteggiamento divulgativo, ci si occupa di qualsiasi elemento il più esotico, basta occupare il tempo. La geopolitica ci richiama la realtà, ciò di cui ci occupiamo deve riguardare la comunità a cui ci rivolgiamo, deve essere importante. E se gli Stati Uniti hanno segnalato il proprio declino alla propria fine oppure al contrario o risorgere attraverso il ritiro dall'Afghanistan è un elemento che riguarda tutti noi, perché noi siamo provincia dell'impero americano, siamo alleati degli Stati Uniti se vogliamo edulcorare e quindi ciò che capita agli Stati Uniti è per noi molto importante, non quanto ciò che capita a noi, ma subito dopo certamente sì. E allora, che cosa ci dice il ritiro americano dall'Asia centrale, dall'Afghanistan? Ci dice che era ora. È assolutamente bizzarro vedere come qualcuno si sia lamentato che gli americani se ne siano andati o se ne stiano andando definitivamente dall'Afghanistan. Non aveva senso ritrovarci sì vent'anni fa, figurarsi, rimanerci un giorno in più. Siamo ben oltre ogni tempo massimo, perché, primo elemento da inserire nella nostra analisi, l'Afghanistan non è un paese strategico per gli Stati Uniti. Forse non lo è per nessuno, tranne il Pakistan, tranne l'India, vagamente la Cina, un po' la Russia e su questo anche torneremo. Certamente non lo è per gli Stati Uniti. Qualsiasi cosa capiti all'Afghanistan non tocca in nessun modo la traiettoria americana. Quindi se noi guardiamo il ritiro statunitense dall'Afghanistan e pretendiamo di trarne conseguenze o conclusioni riguardanti la supremazia americana, già siamo fuori strada. Perché tutto ciò che riguarda l'Afghanistan non tocca gli Stati Uniti in nessuna maniera. Era per questo folle esserci ed è giusto essere andati via. Prendiamo la prima carta che abbiamo preparato per questo nostro approfondimento, che racconta l'occupazione occidentale dell'Afghanistan, qualcuno la chiama liberazione. Sappiamo che l'ideologia in questo contesto poi determina la definizione, la dizione delle cose. Gli Stati Uniti vanno in Afghanistan domani dell'11 settembre perché sono in preda alle razionalità. non sono abituati gli americani ad essere colpiti sul loro territorio. In precedenza, prima dell'11 settembre 2001, avevano vissuto questo tipo di esperienza soltanto in due casi. I due casi riguardano la Seconda Guerra Mondiale e mai in territorio metropolitano. Era capitato ovvero a Pearl Harbor, diciamo nelle Hawaii, quello che è l'attacco più spaventoso della storia americana, quello portato da una potenza immensa come quella giapponese e poi ancora una volta in un contesto simile sulle isole Aleutine e siamo ancora fuori dal territorio metropolitano nei pressi dell'Alaska. Il fatto che per una volta gli statuti, sebbene da una non potenza, siano stati colpiti sul loro territorio, nella città più simbolica, quella che è ovviamente New York, sebbene sappiamo un'altra ramificazione di cui l'attentato tocca il Pentagono, determina una reazione irrazionale. Cioè si va dove? Nell'Indukush. Ciò che era razionalità in Ponevalore era di realizzare un'operazione di polizia, di intelligence militare limitata in Afghanistan, utilizzando i Mujahideen che gli americani avevano formato, da cui poi è germinata anche Al-Qaeda ai tempi dell'invasione dell'Unione Sovietica in Afghanistan, dalla fine degli anni 70 per tutti gli anni 80, per catturare Billade nei suoi accoliti e farla finita. prenderli proprio come trofeo, come si faceva una volta, e darli in pasta alla popolazione americana, vivi o morti. Questo bisognava fare. Inizialmente gli americani ci pensano pure, poi la situazione sfugge di mano, sfugge di mano anche per quella carta che avete visto, perché si inseriscono gli alleati europei, anzitutto europei, che partecipano inizialmente contro un invito americano in Afghanistan e dicono agli americani rimaniamo, soggiorniamo da queste parti. Gli americani in piena irrazionalità rimangono vent'anni e noi con loro, ma ripeto, di ciò che è ancora più importante, cioè di ciò che riguarda noi, l'Italia, ce ne occupiamo in una puntata di Mappamundi e io in uno specifico articolo nel nuovo numero di Limes. Ma allora che senso ha che se ne siano andati gli statunitensi? Il senso è estremamente positivo per gli Stati Uniti, altro che declino. Gli Stati Uniti stanno compiendo quella maturazione che li conduce dall'essere imperialistici ad imperiali. Questo è una distinzione non soltanto evidentemente nell'alliterazione che ritroviamo, ma è una distinzione fondamentale sul piano strategico. Chi è imperialistico, anche se noi pensiamo siano sinonimi, interviene ovunque, un po' a casaccio, soltanto perché può prendere e metti i pedi nel piatto, fa la guerra soltanto perché ne ha le capacità. Questo genera grandi problemi, perché si perde molto tempo, ci si distrae. Nessun egemone globale o territoriale, regionale, può perdere tanto tempo nelle guerre, perché gli atti se ne approfittano. Non è un caso che il ventennale soggiorno americano inutile in Afghanistan sia stato pagato in buona parte dalla Cina attraverso i buoni del tesoro statunitense, perché la Cina aveva vantaggio affinché gli statunitici continuassero ad impantanarsi in un contesto tanto strambo. Passare ad una fase imperiale vuol dire intervenire militarmente soltanto quando è necessario, non quando si può, ma quando si deve. In tutti gli altri contesti non si interviene, si lascia che siano gli altri a scannarsi fra di loro, che perdano tempo loro, che hanno anche risorse minori dell'egemone e che quindi paghino un prezzo ancora più salato di quanto non paghi l'egemone in condizioni simili. Questo passaggio che è stato dei romani, degli ottomani e dei britanni ci arriva finalmente agli statunitici ed è un elemento di crescita, di ascesa della potenza americana, non di declino. La maturazione di un impero è un elemento inevitabilmente di positività. Un impero non va per il mondo per regalare chissà quali diritti o per rimporli o per insegnare agli altri a stare al mondo. Non funziona così. Lo fa in forma strumentale quando gli è utile. Siamo esseri umani. Nessun essere umano si muove soltanto per ragioni ideologiche o se lo fa è uno sciocco. Specialmente in contesti come quello da afghano dove i cosiddetti diritti umani universali, che universali non sono e non saranno, sono interpretati come coloniali. L'obiettivo di un impero è rimanere supremo e evitare il suo collasso, evitare di essere distrutto e dilaniato dai nemici. Punto. Non è un dramma. In questo percorso che tende sempre alla supremazia. Gli imperi non cercano altro, perché gli esseri umani vivono in questo mondo in questa maniera, non perché gli imperi siano compositi da chissà quali fenomeni. Sempre gli esseri umani sono composti. Durante questo dipanarsi, tipico di un impero, l'impero regala al mondo la sua civiltà. Lo fa basando la sua violenza. Tutto ciò a cui punta non è le arti, non sono le arti, non è la filosofia. Questo è ciò che realizza rimanendo al potere. Il primo obiettivo è rimanere in testa. Nel momento in cui vi rimane ogni soggetto che è in testa, ogni impero che è in testa, si fa civiltà preeminente rispetto alle altre. Concentra anche il massimo sviluppo nelle arti. Ma non agisce per queste, non agisce per queste né per i diritti. La sua maturazione vuol dire riconoscere semplicemente che le sue risorse sono finite e determinate e non le può sperperare. Esattamente ciò che un adolescente non capisce che capisce un adulto. Nel momento in cui questo avviene, il vantaggio è netto. E' la ragione per cui, al di là delle chiacchiere, gli antagonisti degli Stati Uniti, possiamo vedere la prossima carta, sono molto preoccupati dalla dipartita americana. Altro che festeggiare. Anzitutto perché adesso chi si occupa dell'Afghanistan? Gli americani si sono svegliati. Non sono più i tontoloni che hanno perso vent'anni in Afghanistan. E allora che succede adesso? Se ne devono occupare i paesi per i quali l'Afghanistan conta qualcosa e non sono gli americani. Quindi cinesi, russi, pakistani, iraniani, anche turchi, con i soldi dei catarini e così via. Dell'altro obiettivo americano, lasciare il buco nero ai propri antagonisti. Quanto invece fino a questo momento hanno svolto gli americani in quei luoghi. La ragione per cui, appena nel febbraio del 2020, gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro, i cinesi hanno cominciato a non dormire la notte, a incontrare i talebani un giorno sì e l'altro anche, a discutere con loro del futuro. E così i russi, a cadirlo i pakistani che i talebani li hanno formati, così i turchi che facevano da mediatori a Doha tra Stati Uniti e talebani. E così il catar che finanzia, dicevamo, ogni intemerata di Ankara. Davanti a queste realtà è impossibile stabilire il declino degli Stati Uniti, visto che, come detto, è una mossa che li rilancia. Un asterisco sul paragone riguardante il Vietnam. I due contesti sono opposti. Che cos'era la guerra del Vietnam? La guerra del Vietnam era una guerra per procura, in piena guerra fredda, tra Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che gli americani perdono per due ragioni. La prima perché tendono a perdere tutte le guerre tattiche e vincono tutte quelle strategiche, si confermano, cioè perdono le guerre che non contano e vincono quelle che contano. È il loro grande vantaggio, altrimenti non sarebbero il primo paese del mondo, per quanto può durare. L'altra ragione per cui perdono la guerra in Vietnam è che commettono un errore grammaticale, si macchiano di una grave sgrammaticatura strategica. Le guerre per procura mediamente vanno combattute per procura, cioè indirettamente. In Vietnam gli americani si impegnano massicciamente sul territorio contro un nemico, l'Unione Sovietica, che invece agiva per procura. Quindi era agiva mascherandosi, si fa per dire, dietro un soggetto, ovviamente autoctono, che esisteva in loco. Queste due ragioni rendono il Vietnam una guerra diversissima dall'Afghanistan, dove gli Stati Uniti hanno fatto il bello e il cattivo tempo, hanno occupato facilissimamente il paese, aiutati ovviamente anche dei loro antagonisti, che speravano vi si impantanassero. Poi, in un momento in cui hanno deciso dopo vent'anni che non serviva a niente, l'hanno riconsegnato alla popolazione locale, che poi è guidata in questo momento dai talebani, che non sono una struttura imposta dall'Occidente, ma sono afghani, vale la pena ricordarlo. Quindi rappresentano l'Occidente molto più dei commentatori occidentali che si lamentano della loro presenza. L'unica similitudine tra Afghanistan e Vietnam è il fatto che le due guerre non contavano quasi niente, un po' di più quella vietnamita, ma quasi niente anche quella, ma all'epoca fu scambiata per determinante. Esattamente come oggi, dopo il ritiro da Saigon, con quel cielo all'abbastrino che nelle foto si vede, che circonda gli elicotteri statunitensi che portano via il personale americano da Saigon, fu annunciato, la pubblicistica, la letteratura è piena, ma anche le cronache di allora, che la supremazia americana era finita e che la guerra fredda l'avrebbe vinta l'Unione Sovietica. Un po' quello che sta succedendo adesso, da Kabul. Ed è qui che si conta l'unica similitudine, che è esattamente il contrario di chi invece crede che siano uguali. Chi rilancia il paragone tra Vietnam e Afghanistan lo fa perché dice sono identici, gli Stati Uniti hanno perso, gli Stati Uniti sono in declino. Lo dicevano allora, lo dicono oggi. Non si rendono conto che l'unica similitudine tra i due contesti e che entrambi hanno smentito il Vietnam certamente, visto che poi soltanto 15 anni dopo l'Unione Sovietica è crollata, ma anche l'Afghanistan smentisce tale previsione ed hanno in comune soltanto ciò che i commentatori che propongono questo paragone non coglierebbero mai il fatto che i due contesti non contano quasi niente sul piano strategico. Questi alcuni elementi per comprendere il ritiro americano dall'Afghanistan che segnalano una maturità, un passaggio da imperialistici ad imperiali per lasciare poi la patata bollente agli antagonisti. Soltanto una variante potrebbe inserirsi in questa analisi, la reazione dell'opinione pubblica americana. In un paese così violento come gli Stati Uniti l'opinione pubblica americana avrebbe potuto e potrebbe ancora reclamare dopo il danno d'immagine, dopo l'attentato di Kabul, una reazione dura da parte del Pentagono contro i cosiddetti nemici terroristi, quel terrorismo che è incarnato da sigle diverse in varie fasi del tempo. Questo potrebbe indurre ancora una volta gli Stati Uniti a perdere tempo, ad impantanarsi. Per ora la maturazione sembra svolgersi in maniera compiuta. Dopo l'attentato di Kabul in cui 13 marines americani sono stati uccisi, Washington si è limitata ad attaccare lo stato islamico del Corazana soltanto attraverso i droni, senza perdere altro tempo. Segnale, almeno finora, di una postura americana che si va maturando e che invece di indicare declino indica per l'appunto un miglioramento della postura strategica d'oltreoceano. Grazie per avermi seguito, all'appuntamento e alla prossima settimana.